ciao amici bentornati in un nuovo video io sono anti gamer e oggi siamo su storia che novità ecco riecomi stai a fare un video sì a ciao ragazzi i love games devono scrivere per essere salutati io amo i videogiochi come sempre devo ancora pubblicare un altro video ricordate andatelo vedere perché attenzione delle cattive persone è vero no in realtà bisogna rispettare anche di ei solo che danno un po fastidio c'è un po scemo che chiedi il doppio dell'accusa eh lol che bull scemo timpini dopo ecco grazie io sono senza pas io io davvero non ho parole e la punizione di auto dopo no 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 decidi o adesso o dopo mai ai 22 soluzioni mai ho detto mai capito e io ho detto due soluzioni baby ma vedi che fai anche tu? la vedi che lo fai anche tu baby? no io ho detto baby baby come dice brock secondo me è solo una scusa no davvero ho detto bombax go si bombax baby vabbè puoi anche non credere però è così comunque io ti ho detto non mi dai la punizione capito? tanto ne un'altra vieni e ora te la distruggono hai visto un razzetto ho fatto anche il migliore ma non l'hai mai notato l'hai fatto sempre tic 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 è uno dei brawler più forti in obiettoria gg vero Andy? si vero Andy? ho detto di si eh sei sordo? no cioè si sono sordo un like uguale una preghiera per me perché non sento niente in sto momento perché è l'audio mutato sta scherzando altrimenti se ci sarei stato veramente sordo avrei fatto così sai Biiiip basta ho detto beautiful vabbè comunque fa parte del campo delle parole che non dovresti no grazie e te? e te? Cristian è a pixel cosi dice? l'avevo detto niente parole così come quelle che hai detto prima ad esempio? quelle che hai detto prima non te lo ricordi? quali? bi-bi-bo io ho detto beautiful eh però fa comunque parte della cosa del bi ma perché che ti sei messo davanti a me? il vita non va bene per questa modalità e poi l'ho vinto se non ci però tu siccome sei e abbiamo vinto vediamo chi ha fatto il migliore io esatto esatto prevedo tutto momento cacca mike perché non parli? non ho niente da dire che cosa c'è? c'è di story now penne è forte eh? non c'è non c'è non c'è ecco vabbè abbiamo vinto esatto bibibo e io che vado all'attacco col mio clacson io la comisione a sto punto direi il video può finire qua e noi ci vediamo al prossimo video ciao